come ha fatto Sasha vieni se vado più avanti che tutti vogliono dirvi ok da sotto vado a sotto qui ti viene ok salutate anima che tanto non vi vede saluto nel caso che adesso fermo, fermo Sasha Sasha, mutati di Tudor Tudor a destra a dritto perché se vado è sotto avanti devo mettere il tasto per aumentarti la velocità ecco no 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 non entra un po' Tudor per mancini allora parla indietro vai, è pronto, è pronto passa indietro ti è più sinistra è perfetto stai bene, fermo, fermo non puoi andare là allora ragazzi un applauso per Sasha però vai, vai, facciamo di servire per Sasha ok, girati più Tudor sta costruendo una carriera bilettonica nel caso si facesse male siamo pronti, siamo pronti e sta creando il momento Tudor cosa fai con la scena airbag sabrina sabrina